La BMW X7 è la vettura che rappresenta l'apice delle SUV dell'elica, con lusso e comfort a non finire, praticamente a livello di una serie 7 ma con assetto rialzato. E questo vale per gli umani. Come la penserebbe invece il vostro cane? Probabilmente se il vostro fedele amico visitasse una concessionaria e fosse capace di sfogliare le brochure, punterebbe il dito, pardon la zampa, sull'allestimento Poldo Dog Couture. La casa milanese specializzata in accessori di lusso per cani ha studiato un allestimento per la X7 che sublima il comfort in viaggio degli amici a quattro zampe. Una personalizzazione di alta classe caratterizzata da un'eleganza e da una cura di livello sartoriale da fare invidia ai bipedi. La base motoristica di partenza è la X740D Mild Hybrid da 340 CV e 700 Nm di coppia. Una combinazione elettrificata in grado di ottimizzare l'efficienza del propulsore a gasolio grazie alla spinta data dal generatore elettrico a 48 V, riducendo così consumi ed emissioni di CO2. Sul lato estetico invece si è puntato su una scala cromatica che va dal colore panna della tinta della carrozzeria fino a passare nelle varie sfumature al color caffè della pelle dei sedili. L'atmosfera dell'abitacolo regala una suggestione tutt'anni 60 in termini di materiali, rivestimenti e cura del dettaglio. Dai battitacco in legno brandizzati agli inserti nella plancia, dai rivestimenti dei sedili e dei poggiatesta alla cura delle impunture. Il comfort e la sicurezza dedicati agli amici a quattro zampe sono assicurati da un kit da viaggio composto da una cintura di sicurezza lunga a 40 cm per assicurare i cani di taglia piccola e media ai sedili posteriori, la rete divisoria in paglia di Vienna, copertine imbottite di cotone per sedili e vano bagagli e una ciotola che compare e scompare con un comando elettrico sul lato del vano di carico. Infine valigia in midollino, borraccia termica, un guinzaglio, un collare per passeggiate sempre all'insegna dello stile. Il kit di accessori è disponibile solo su ordinazione sul sito ufficiale di Poldo Doc Couture. La X7 così allestita è ordinabile su richiesta in tutti gli showroom BMW.